Via Libera del Consiglio Comunale è la riduzione del 50% della TOSAP per ambulanti e commercianti fissi in Piazza Garibaldi quando il mercato si trasferisce dalla sua location storica per più di tre settimane. A votare a favore del provvedimento illustrato in aula dall'assessore comunale alle politiche del commercio, Cristian La Civita, è stato anche il Partito Democratico. Un altro piccolo segnale dell'amministrazione che usa la leva fiscale per politiche incendivanti come era stata precedentemente la riduzione della tasia che affitta locali lungo corso video rimarca La Civita che non ha incassato però il parere favorevole degli ambulanti rappresentati da AMVE come esercenti che chiedono la riduzione totale della TOSAP e annunciano ricorso al TAR. Ma a chiedere più incentivi non solo per gli esercenti della piazza ma per tutti i commercianti è il presidente di Asconfidi Ascon Servizi sul Mona Claudio Mariotti. Ritengo opportune le agevolazioni sulla TOSAP per gli ambulanti nel mercato, interviene Mariotti, ma pongo il problema anche dei commercianti a posto fisso che hanno un'attività nel centro storico, spesso vittime della chiusura del corso e dell'orario della zona traffico limitato che viene allungato. Secondo il presidente dell'Ascom, anche i commercianti a posto fisso, quindi i proprietari e i gestori di negozi, sono penalizzati da una serie di scelte e di conseguenza dalle vendite. Pensiamo anche a delle agevolazioni sulla TOSAP per tutti i commercianti, conclude Mariotti che lancia la proposta e apre il dibattito.